Ciao a tutti, oggi vi do qualche consiglio cinematografico, ovvero film belli, che vi consiglio, ma in questo caso scelgo 5 film che io reputo straordinari, ma che al tempo stesso sono talmente di nicchia che molto spesso non sono neanche considerati dagli addetti del settore, cioè sono dei film di nicchia nella nicchia, quindi praticamente che passano inosservati, almeno che non si abbia una tendenza a cercare tanto per quanto riguarda le novità cinematografiche, autoriali, e sono dei film che comunque sicuramente meritano una visione, perché io, almeno io, reputo straordinari. Il primo di questi diciamo che è il più famoso dei 5, infatti normalmente i cinefili lo conoscono, però non potevo non consigliarvelo perché è veramente un film bellissimo, e come al solito vi lascio titoli, regista e anno di produzione nell'info box, e iniziamo subito. Il primo film, dicevo, si intitola Valerie and the Week of Wonders, che in realtà è uscito all'epoca, siamo nel 1970, in Italia, con il titolo Fantasie di una tredicenne, titolo che sembra quello di un porno di serie Z, in verità no. È un film ciecoslovacco di Jerome Gires, Jerome... 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 Jerome Gires, non so... Non so il cieco, aiutatemi. E sostanzialmente è un film tratto da un romanzo che io ho letto, ed è uno di quei casi in cui il film supera di gran lunga il romanzo. Questo film, diciamo che è un delirio surrealista, che poi va letto attraverso una semiotica che si ricollega a un'indole quasi politica di critica, infatti aveva scatenato scalpore più che altro per le simbologie che ci sono alla base di questo film, ma in verità, anche preso così com'è, senza darci una lettura troppo approfondita, si manifesta subito come un film assolutamente meraviglioso. E' la storia di questa ragazza, Valerie, che è appunto una tredicenne, e la sua settimana delle meraviglie, in sostanza il primo ciclo mestruale. Lei appunto ha il primo ciclo, ed è immersa in quest'ambiente oppressivo, scuro, bigotto, estremamente bigotto, in un paese di un passato incerto, nel senso che non c'è una vera e propria rappresentazione spazio-temporale. E' tutto molto allegorico, barocco. E questo viaggio che la porterà all'ingresso dell'età adulta, perché il ciclo mestruale è chiaramente la metafora di questo, la porta ad avere delle visioni, di tipo, di stampo quasi horror, no? Perché ci sono di mezzo i vampiri, c'è di mezzo un erotismo quasi oscuro, occulto. E' un film che consiglio a tutti coloro che amano quelle opere visionarie, magari, non lo so, anche se sono film totalmente diversi, lo consiglio a chi ama, ad esempio, i film di Jodorowsky, di Lynch, oppure ancora The Wicker Man, perché si respira quell'aria quasi pagana, poetica, misteriosa. Ed è un film estremamente elegante, estremamente perturbante, ma allo stesso tempo che rimane sicuramente impresso nella memoria. Un altro film, il secondo, che vi consiglio è Peep TV Show, di Yutaka Tsuchiya, trattasi di un docudrama, ovvero un film di fiction che mischia delle scelte documentaristiche, ed è giapponese, realizzato nel 2004. Yutaka Tsuchiya è un filmmaker indipendente giapponese che si occupa principalmente di documentari, e in questo caso lui ripercorre, cerca di raccontare la Tokyo contemporanea attraverso delle figure che lui sceglie come rappresentanti delle controculture, delle sottoculture. Abbiamo quindi i punk, le gothic leolita, però non si ferma lì, perché in sostanza è tutta una rete di personaggi che è costruita, connessa assieme, personaggi che vivono un senso opprimente di solitudine, quasi di vuoto, di noia, di stanchezza, e sono atoni, girano per Tokyo senza grandi aspettative, senza grandi ambizioni, e è in realtà, prima di tutto, una straordinaria riflessione sul rapporto delle persone in media, perché è l'evento centrale che collega questi ritratti umani, in sostanza, è la rappresentazione dell'11 settembre 2001, attraverso la televisione, ovvero una catastrofe che crea spettacolo. Le persone che qui vengono rappresentate, in sostanza, non aspettano altro che un proprio 11 settembre, ovvero un evento, anche brutto, anche tragico, che però possa avere la stessa identica potenza mediatica, al fine di sconvolgerne la vita, in negativo e in positivo, ma semplicemente per la finalità di lasciare una traccia umana su questo mondo, di essere ricordati in qualche modo, ed è straordinario. A me è piaciuto veramente, veramente tanto e ve lo consiglio, se lo trovate guardatelo. Il terzo film che vi consiglio, per quanto non sia sicuramente per tutti, è Routine Holiday, di Leon Kee, film del 2008, di un regista cinese che io amo moltissimo, è un regista cinese con un senso dell'umorismo che può rimandare anche a certi toni scandinavi, come Roy Anderson, a volte lo ricorda molto, oppure, in letteratura, un buon corrispondente è Samuel Beckett, perché alla fine i film di Leon Kee sono dei teatri dell'assurdo, sono personaggi che si muovono in questo mondo grigio, scuro, e la loro incapacità di stare al mondo, il loro essere soli, disadattati, abbandonati, fa creare delle situazioni che, per quanto siano tragiche ai personaggi, o comunque prive di senso, che è ancora peggio del tragico, scatenano ilarità, un'ilarità amara nello spettatore, è quasi comico da quel punto di vista, è un umorismo interessante, che a me piace molto, e che qui è rappresentato molto bene, e che, anche a livello visionario, per quanto sia un film low budget, è estremamente curato, e mi è piaciuto moltissimo. Il quarto film che vi consiglio, anche quello è cinese, questa volta di una regista, che è Liu Jiayin, che secondo me è un genio, cioè una regista geniale, perché lei ha debuttato con questo film, che è Oxide, del 2005, poco più che ventenne, comunque era proprio una ragazzina, eppure ha realizzato un capolavoro assurdo. Lei è partita da un concetto molto difficile, ovvero io voglio rappresentare ciò che è storto, ciò che non va nella struttura, nella regolamentazione delle regole della vita nel mio paese, quindi la Cina. E allora lei cosa fa? Per arrivare a questa riflessione, ad approfondire questa riflessione, lei prende in considerazione la famiglia, perché l'idea è che è attraverso le famiglie che si possono studiare in modo approfondito e veritiero gli effetti, le negatività, i contro di un paese, cioè i difetti, le falde, le lacune, e lei fa una cosa molto semplice, ma allo stesso tempo geniale nella sua semplicità, ovvero lei realizza questo documentario totalmente girato in casa sua, con unici attori, lei e i suoi genitori, che sono se stessi, sono loro stessi, e riprende quello che succede in casa, cioè puro cinema verità. Però, come viene raccontato la selezione, non sappiamo se c'è del drama dietro, quindi se c'è una sceneggiatura alla base, ma quello che lei ci mostra è sicuramente un film estremamente interessante, è un documento, prima che un documentario, di grande valore, secondo me, che poi ha cercato di portare avanti questo discorso con un film altrettanto straordinario che è Oxide 2, quindi è il seguito, se vogliamo, dove anziché concentrarsi sulla documentazione dei fatti, lei predilige uno sguardo che si rapporti anche con la tradizione del proprio paese, ovvero il cucinare cibo cinese, perché il secondo film è invece una documentazione di un rituale familiare, ovvero la preparazione dei ravioli al vapore, e attraverso la semplicità del quotidiano lei riesce a raccontare dei drammi universali, dei drammi che riguardano più persone, e la trovo geniale, è una regista geniale, secondo me. Mentre l'ultimo film che vi consiglio assolutamente di vedere è Luton di Michaelis Constatatos, è un film greco del 2013 che diciamo che rientra nella weird wave greca, ovvero un movimento cinematografico nato dalla seconda metà del 2000 che magari riprendendo alcuni autori famosi come Anek, riprende quegli stilemi stilistici, quindi in quadrature molto lunghe, una fotografia abbastanza settica, una recitazione per lo più atona, e molto spesso anche una buona dose di umorismo sottile, come ad esempio è sfruttata da Iorgos Lantimos, che è l'esponente principale di questo movimento, con film come Dogtooth, Alps, The Lobster, che è uscito anche in Italia, meno male, è una cosa buona, l'abbiamo fatta, e invece Luton, che è un film minore della weird wave greca, in realtà è molto interessante, perché è un film dove apparentemente non succede niente, nel senso che comunque noi seguiamo tre personaggi per una buona dose di film, li vediamo... dose, mamma mia! per una buona porzione del film, li seguiamo nelle loro gesta quotidiane, quindi vediamo una donna che va a fare shopping, uno studente che segue le lezioni al liceo, un altro che è proprietario di un tabacchino e vende i tabacchi, c'è proprio la normalità, però la regia rende questi momenti estremamente interessanti, perché narrativamente vengono rappresentati in modi complessi, così geometrico, così metodico, nelle inquadrature, nei movimenti degli attori, nella scelta di cosa inquadrare e perché, ed è come se ogni inquadratura, che sono lunghe, ve lo dico, fosse permeata da una... da un senso di tensione, di imminente tragedia, è come una piccola cosa che sta per esplodere, poi la cosa esplode davvero e improvvisamente, lì, il tocco veramente che mi ha fatto dire oh mio Dio che figata, è che tutte le scene apparentemente inutili dalla prima parte assumono un senso quando quando l'azione finalmente esplode, ma io non voglio dirvi di più perché mi piacerebbe che lo vedeste, vi dico anche che anche questo è un film non per tutti ma sicuramente è da vedere anche per chi non... semplicemente come visione di come il cinema sia estremamente eclettico come arte, come espressione, ve lo consiglio. Detto questo io vi saluto, fatemi sapere se conoscevate già questi film, se li vorreste vedere, se ne siete interessati. Alla prossima, ciao ciao!